Una giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina e un suo collaboratore nell'ambito di procedure di amministrazione giudiziaria sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Perugia in quanto accusati a vario titolo di corruzione per atto contrario a doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione in debita a dare o promettere utilità. Un'altra collaboratrice è stata invece messa agli arresti domiciliari. Nei confronti dei tre è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP del Covolo Poumbro su richiesta della procura guidata da Raffaele Cantone.